amiche amici bianconeri buon venerdì primo aprile siamo sul volgere di venerdì primo aprile ma siamo ancora in tempo per un saluto per un video che voglio dedicare dopo aver tanto chiacchierato intorno ai nomi che ruotano sul fronte bianconero dedicarlo a quello che è il big match della prossima giornata di serie a ovvero juventus inter per la verità ce n'è un altro di big match data l'importanza tra l'altro correlata tra le due partite che è quello di atalanta napoli e allora sviluppiamo insieme finalmente parliamo un po di juventus inter prima di farlo come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube mantenendo azionata la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su tutti i futuri contenuti che pubblicherò su questo canale in fondo alla puntata mi raccomando mettete like al video finalmente ecco qui che cominciamo a parlare entrare in clima partita perché domenica ore 20 45 all'allianz stadium in uno stadium da tutto esaurito si torna con il grazie al nuovo decreto al riempimento degli stadi e quindi cornice della del grande appuntamento del grande avvenimento finalmente possiamo dirlo per juventus inter una partita importante non c'è ombra di dubbio partita fondamentale per entrambe le squadre per un verso o per l'altro sappiamo che l'inter dovrà ancora recuperare la sfida contro il bologna e quindi potenzialmente alla possibilità di avere tre punti in più in classifica ma partita importante anche ovviamente per la juventus è uno per consacrarsi nelle zone alte della classifica nell'eventualità di una vittoria due perché la vittoria in sé comporterebbe il sorpasso ai danni degli acerimi nemici nero azzurri scavalcandoli in classifica di due punti proprio perché in questo momento inter è avanti l'inter è avanti di uno una partita che da un punto di vista delle statistiche ci raccontano ci racconta una tendenza favorevole ai bianconeri soprattutto nelle sfide di allegri all'inter di allegri verso filippo inzaghi e dello stesso verso simone inzaghi chiedo scusa e dello stesso simone inzaghi al confronto di allegri e della juventus stessa quindi è chiaro che i numeri sono fatti poi per essere sovvertiti le statistiche ancora di più ma è una partita questa che arriva in un momento cruciale della stagione dove nella volata finale juventus inter milan e napoli si contendono chi lo scudetto chi ovviamente le zone quante più alte della classifica possibile e a questo ovviamente mi riferisco alla juventus sapete quanto la matematica non condanni bianconeri ma è quanto io non reputi la juventus nelle condizioni seppur ripeto la matematica non la condanni di poter agguantare lo scudetto perché tre squadre davanti sono tante perché il milan corre il napoli ha saputo rispondere colpo su colpo anche ai passi falsi vedi vedi ad esempio un napoli milan e poi il napoli andarsi riprendere con vittori importanti anche in trasferta ma se la juventus dovesse fare la juventus e quindi fare una grande partita e allegri dovesse riuscire ad incartare simone inzaghi ecco che sarebbe importante interessante anche alla luce di quello che è l'altro big match della giornata ovvero atalanta napoli sfida ad alta classifica con gli orobici che sono tornati prepotentemente in condizione e in forma e ovviamente gli azzurri di spalletti che non vogliono mollare un centimetro e quindi giornata davvero interessante sul fronte bergamo e torino per quanto riguarda i bianconeri allegri recupera sostanzialmente tutto il recuperabile ovvero mancheranno i lungodegenti mckenny che a differenza di quanto raccontatoci dallo stesso massimiliano allegri in una precedente conferenza stampa a proposito allegri parlerà domani ore 14 dallo stadium l'americano il texano dovrebbe poter tornare disponibile per la volata finale di questa stagione e quindi non è detto che la sua stagione così come avevamo paventato come lo stesso massimiliano allegri inizialmente aveva paventato non è detto che la stagione di mckenny sia conclusa e anzitempo e ovviamente mancherà federico chiesa che lo rivedremo soltanto nella prossima stagione mentre è recuperato zaccaria a tempo pieno è recuperato anche alexandro e di conseguenza si va verso una sorta di ballottaggi anche alla luce del rientro anticipato di quadrado che era squalificato e quindi ha saltato la seconda partita con la propria nazionale rientrando a torino anzitempo e quindi rendendosi disponibile e candidato per una maglia da titolare a sensazione credo che la difesa sia cosa fatta con danilo basso a destra i centrali delite chiellini e a sinistra ballottaggio alexandro de sciglio credo con l'italiano favorito sul brasiliano che ha recuperato dal precedente infortunio si è riaggregato al gruppo ma ovviamente viene da un periodo di inattività e quindi non è detto che massimiliano allegri lo rischi dall'inizio a centrocampo zaccaria potrebbe incalzare anzi sta incalzando decisamente artur e quindi potrebbe essere centrocampo a tre con zaccaria locatelli in posizione di regia al posto appunto di artur e l'irrinunciabile rabbiò che da la fisicità e quantità al centrocampo di massimiliano allegri ovviamente secondo quelle che sono le vedute di massimiliano allegri e poi juventus che davanti ecco potrebbe potrebbe vedersi schierata con quadrado vlaovic e morata oppure dibala vlaovic e morata io credo che ci sia una sorta di ballottaggio lo capiremo magari meglio domani dalla conferenza stampa tra dibala e quadrado perché penso che quadrado possa essere utile e importante anche a partita in corso per spaccare la partita al tempo stesso vedo morata ben assortito con vlaovic nel ruolo di esterno alto a sinistra non vedo nel cosiddetto tridente in fase offensiva dibala destra e quadrado a sinistra per cui dovesse giocare dibala vedo meglio morata con vlaovic e dovesse giocare quadrado vedo meglio morata con vlaovic e dibala che possa partire dalla panchina vedremo quello che sceglierà massimiliano allegri massimiliano allegri che ha riposto e riporrà fiducia totale nei confronti della gioia che come sapete ha diciamo interrotto i rapporti per rinnovo del contratto per volere soprattutto della juventus o meglio dopo che l'entourage non ha accettato il benché minimo buon consiglio di rivedere al ribasso la parte fissa nel contratto e quindi dibala che è a disposizione recuperato è sicuramente voglioso di finire bene alla grande la propria stagione l'inter che recupera brosovic e con un maggior dubbio invece sulla condizione di devrai però sostanzialmente parliamo di due squadre che si quasi si prestano ad essere al gran completo sarà il derby d'italia una partita importante interessante vedremo chi la spunterà le sensazioni sono al momento positive c'è grande carica c'è grande voglia di continuare questa rincorsa questa triscia positiva nei bianconeri vediamo quello che sarà noi ci aggiorniamo presto se ci sono novità ci sentiremo domani se no come sempre domenica per il super big match juventus inter e per raccontarlo per analizzarlo nel frattempo vi auguro un buon weekend ci sentiamo presto come sempre fino alla fine forza juve mi raccomando iscrivetevi al canale mettete like al video azionate la campanella notifica ciao